Aveva da poco compiuto 24 anni e a breve si sarebbe dovuto laureare. Si chiamava Jacopo Sciabolini, il giovane studente di scienze infermieristiche morto in un incidente stradale a Fogliano della Chiana, lungo la strada provinciale 327 lunedì pomeriggio. Uno scontro frontale tra auto, un'utilitaria sulla quale viaggiava il giovane e un SUV. Un violentissimo impatto, la Fiat Panda è sbalzata fuori dalla carreggiata, così come l'auto con a bordo due donne, una 51enne e la madre di 75 anni, entrambe trasportate in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Arezzo, non sono in pericolo di vita. I soccorritori hanno tentato anche di ranimare il ragazzo sino all'ultimo, ma alla fine non c'è stato nulla da fare. La dinamica dell'impatto deve essere ancora chiarita, spetterà farlo alla Polizia Municipale. Sull'accaduto, come da prazzi, è stata aperta un'inchiesta per omicidio stradale, titolare la PM Francesca Eva. A seguito dell'accaduto, anche il presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Arezzo, Giovanni Grasso, ha voluto esprimere, a nome di tutti gli iscritti, la vicinanza ai familiari della vittima e il cordoglio per la scomparsa di un futuro infermiere.